Salve! Lei ha vinto un viaggio in Antartide a piedi! Cosa? Basta sottoscrivere il piano di assistenza stradale! No, grazie. Ci ho già pensato all'assistenza. E come? Ho usato un additivo Arexons per la mia auto. Eh? Con gli additivi Arexons hai un motore più brillante, più prestazioni e meno consumi. Lo voglio anch'io! Eh, brava! Per ogni prodotto Arexons in promozione, in omaggio un mese di assistenza stradale, con la qualità Map Free Assistance. Più prodotti, più mesi in omaggio. Regolamento completo su arexons.it